La crisi politica nazionale con la Lega che rompe con il Movimento 5 Stelle si riflette anche a livello regionale e comunale. In Abruzzo e all'Aquila, dove governano due esponenti di Fratelli d'Italia, la ripetizione in piccolo di quanto succede a Roma. Situazione che all'Aquila rischia di mettere in discussione tante questioni aperte e stringenti, dalla ricostruzione alla gestione amministrativa di una città che cerca di rimettersi in piedi dopo il terremoto. Il sindaco, Pierluigi Biondi, messo alle stette dalla Lega con l'intervento diretto del deputato Luigi D'Eramo, glissa e si dice tranquillo. Ma la Lega affonda il dito nella piaga di un'amministrazione da sempre claudicante. Se si dovesse tornare al voto, questa volta il nome del candidato lo farebbe il carroccio. Chiediamo al sindaco di vendere le posizioni su degli argomenti che continuiamo a trattare ma che poi non si riescono a risolvere. Uno tra tutti, l'ultimo, abbiamo mandato ieri una nota stampa a tutti quanti i giornali, non è possibile che l'AMA versa in queste condizioni economiche disastrate. Ecco, noi quando siamo stati votati dai cittadini siamo stati votati per prendere delle decisioni. E prendere delle decisioni in politica significa anche prendere decisioni dure e a volte impopolari, ma va fatto perché è il mandato che ci è stato dato. Avete chiesto una verifica del mandato di governo? Non è questione di verifica, abbiamo chiesto semplicemente di rivalutare un po' quello che stiamo facendo al Comune, altrimenti la Lega non ci sta. L'impressione è che ci sia un diktat dall'alto, è così? No, assolutamente. La Lega è un partito federalista nell'anima e rispetta molto i suoi amministratori locali che sono le prime linee che stanno in trincea. Dal canto suo il sempre critico nei confronti della Lega Roberto Junior Silberi del gruppo misto si dice perplesso su una reale crisi politica. Pensiamo a lavorare, esorta Silberi. Una vera e propria crisi di fatto non c'è. Diciamo che le crisi esistono soltanto quando o il Consiglio Comunale non si presenta in aula e purtroppo è già capitata questa cosa qui, oppure quando assessori di una determinata forza politica non sono più assessori e ritirano il proprio mandato. In questi giorni non si è verificata nessuna di queste due cose, quindi io non vedo crisi. Sono dinamiche e logiche tutte legittime chiaramente dal punto di vista politico e rispettabili, certo non condivisibili ma ognuno ha il proprio stile e il proprio metodo. Abbiamo veramente i problemi più importanti e più imminenti che io in prima persona sto comunque provando a contribuire a dare una risposta.